Aveva chiuso gli occhi quasi quattro anni fa. Adesso qualcuno grida al miracolo e sveglia Rosalba Giusti, palermitana di 68 anni, che era in stato vegetativo ricoverata al centro neurolesi. Secondo quanto anticipato da Repubblica Palermo, la donna si trovava in coma al neurolesi dopo un disperato intervento per la rottura di un aneurisma al cervello eseguito al civico di Palermo. Rosalba di notti all'improvviso si è svegliata dal coma e ha chiamato per nome l'infermiera di turno. Il risveglio è un evento programmato, per questo esistono delle speciali unità di accoglienza permanente istituiti da una legge nel 2006 e questo istituto Bonino Culeo di Messina ne è dotato sin dall'istituzione nazionale. Si tratta di curare queste persone che non si risvegliano più dal coma e la signora ha avuto queste cure, questo tipo di assistenza. Normale non è perché non tutti si possono risvegliare e recuperare. C'è una piccola percentuale di persone che ha questa opportunità. Il tutto dipende dalla sede del danno, dal tipo di cure prestate, dalle complicazioni che sono state purtroppo subite. In questo caso la signora ha avuto una particolare risposta a una plasticità di cure, è stata più fortunata rispetto ad altre persone affette ed ha potuto avere questo tipo di risveglio. È chiaro che il recupero non è totale, completo, c'è una percentuale di danno ancora residuo e su questo dobbiamo lavorare, ma il recupero e il contatto con l'ambiente esterno c'è.